Sorpreso dalla volante della questura di Arezzo con le mani nel sacco proprio mentre era intenta rubare all'interno di un'auto in sosta in zona Cappuccini. Per questo è finito in manette un 52N originario di Cagliari ma da tempo residente ad Arezzo. L'uomo è stato fermato attorno alle due di questa notte da una pattuglia che stava effettuando dei controlli nella zona. Nelle mire del 52N era finita un'auto di grossa cilindrata la cui portiera era già stata forzata. Dalla perquisizione personale dell'uomo sono poi saltati fuori anche documenti ed effetti personali del proprietario della vettura. Il malvivente nella stessa notte aveva già messo a segno anche altri due furti sempre nella stessa zona in altrettante auto parcheggiate. Gli agenti hanno ritrovato addosso al 52N alcuni cellulari ed un congegno meccanico a molla utilizzato dal malvivente per forzare le portiere delle auto. Per l'uomo già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio è così scattato l'arresto per furto aggravato.